SIGLA Ah, vediamo se ho capito. Un uomo con una maschera Kabuki vi ha attaccato con dei robot volanti in miniatura. Microbot! Baymax, diglielo! Sì, agente. Microbot. Sì! Li controllava telepaticamente con un neurotrasmettitore. Andiamo! Non sono veloce. Me ne sono accorto! Dai, dai, dai! Quindi il signor Kabuki ha usato la telepatia per attaccare lei e l'uomo palla. So che sembra assurdo. Ragazzo, io chiamerei i tuoi genitori e li farei venire qui. Cosa? Scrivi nome e numero di telefono su questo pezzo di carta, così può... Dobbiamo catturare quel tizio. Ma prima... Ti servirà un upgrade. Sì! Un pazzo in maschera cerca di ucciderci. Non è fico? Sì, insomma, è spaventoso, ma anche è fico. Che ti è preso? Batteria scavica. Sei tu, tesoro? Siamo saltati da una finestra. Che è stato? Siamo saltati da una finestra. Bimbo Peloso Bimbo Peloso